benvenuti in live bomber con questo video vi spiegheremo come attraverso l'applicazione si può creare una partita entrando dal vostro account digitate username e password per entrare nel vostro sistema e selezionare la partita che volete riprendere digitate la l'organizzazione il gruppo precedentemente caricati e le squadre che potete caricare anche sul momento scegliendo un apposito logo una volta scelte è possibile iniziare la partita scalando un vostro credito e installato il vostro dispositivo sul treppiedi siete pronti per iniziare a riprendere grazie a tutti grazie a tutti